Sono Stefano Lugli, sono candidato nel Collegio Nord-Est e voglio portare l'Europa politica per la conversione ecologica delle produzioni perché si può uscire dalla crisi creando occupazione stabile di qualità solo investendo in un'economia sostenibile che viene imprimato delle persone e dell'ambiente rispetto ai mercati e alla speculazione. Quindi vota Zipras e vota l'altro Europa che è anche la tua.